Dall'inizio della nuova campagna di raccolta differenziata nel mese di febbraio e quindi in soli tre mesi, il comune di Castellabate ha raggiunto un risultato eccellente, quasi l'80% di raccolta differenziata, a renderlo noto attraverso un'intervista telefonica all'assessore all'ambiente del comune di Castellabate, Domenico Di Luccia. Oggi Castellabate, dopo tre mesi esatti dall'avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata, si attesta intorno all'80%, 79,54% di raccolta differenziata. È un grande successo, quindi volto alla tutela dell'ambiente, alla salvaguarda del nostro ecosistema, ma soprattutto a una riduzione del consumo di plastica. Si parla tanto di plastic free, noi stiamo dando seguito a questa tematica che si sta diffondendo a livello nazionale, direi anche europeo, mondiale. Nei prossimi giorni, inoltre, nel comune di Castellabate saranno installate cinque casette dell'acqua che daranno ai cittadini un servizio di erogazione di acqua pubblica potabile di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente, tramite apposite strutture. A breve inaugureremo ben cinque casette dell'acqua sul nostro territorio comunale e favoriremo questo consumo di acqua potabile, derivante direttamente da queste casette che noi abbiamo installato, fornendo a tutti i cittadini di bottiglie in vetro, proprio per evitare questo utilizzo, direi, indiscriminato di plastiche. Quindi siamo un comune all'avanguardia sotto tutti i punti di vista e come ho detto sul mio post Facebook Castellabate, la tutela dell'ambiente è al primo posto.